buongiorno a tutti oggi siamo a pazzallo per mostrarvi questa casa a schiera indipendente come potete notare all'ingresso abbiamo questo piccolo giardino entrando veniamo accolti da questo ambiente subito a destra abbiamo il primo bagno di servizio composto di pc lavabo e specchiera proseguiamo è una casa che si sviluppa su tre livelli iniziamo subito dal livello inferiore dove abbiamo un locale hobby come potete notare e sulla sinistra una lavanderia molto ampia ritornando al piano terra abbiamo poi la seconda rampa che ci porta al primo piano la zona arrivato al primo piano partiamo subito con la prima stanza che ha l'accesso ad un balcone che vediamo in seguito proseguendo subito a destra la seconda stanza come potete notare abbiamo un balcone in comune con la stanza vista prima proseguendo abbiamo il primo bagno composto di lavabo specchiera bidet una comoda vasca da bagno ed un vc subito a lato il terzo bagno composto di lavabo vc e specchiera ed infine abbiamo la terza stanza che dà accesso a questo balcone proseguiamo la nostra visita e torniamo a vedere il piano terra piano terra come potete notare a questo salotto diviso in due ambienti molto ampio molto bello e luminoso caratterizzato da questo cammino proseguendo da questa parte entriamo nell'area della cucina una cucina composta di forno piano cottura in vetro ceramica lavabo lavastoviglie in questo caso il frigorifero è stato inserito alle nostre spalle e grazie a queste porte e finestre possiamo accedere a un giardino di proprietà come potete notare abbiamo un piccolo terrazzo e poi un giardino se vi è piaciuta questa casa e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 0041 91 921 24 28 Divertivi! Divertivi!